A dove è Maria? Come ti avete dolorato? Avevo cercando un figlio mio, che ci sente in dà un cuore che sta per fare una brutta fine. Hai ragione, Maria, anche visto che vostè portava nel suo solo mondo tutto inzanguinato e allazzerato, e con una crociangueda può crocefessare. Un figlio mio vuole nel crociofessare. E piccene. C'è brutta azione che ha fatto con l'amorità di essere misa in croce e aveva una sorta da così atroce. In questo mondo non c'è nonna mai stata un uomo che è così buona come io. Ho fatto tanto bene a tutti quanti. Ho dato a vista la cercata. Ho sanato la struppiata. Consigna la morte che è suscitata. E ora? O vuole non accedere? O signore che sta in gelo ha capito ogni cosa. a lontano dagli questa brutta morte. Più c'è messo la merita proprio. È un figlio santo. E vuole bene a tutti quanti. È una mamma che te l'ha domanda. Una mamma che la stessa su cuore. è che d'amblora scinocchiata. Che non può vivere senza un figlio suo. Che è tutta la vita sola. C'è tutto il figlio. Figliata pure a me. Più c'è un figlio mio adorato e tutta la ricchezza mia. E' un bene mio più grande. La vita. La vita mia non può esistere. Senza la sua. Ti prego. Ti prego. O Dio Santissimo. Guarda questa mamma respirata. E fa che si deve salvare il figlio suo amato. Ci muore. Questa mamma muore insieme a Gietta. non può sopportare una perdita da così grande. Noi dolori da così atroci. non può sopportare una perdita da così grande. Non può sopportare una perdita da così grande.